eccoci qua bene siamo al monte carlo bay la location che abbiamo scelto per voi sede anche del famoso torneo di tendis master mille il monte carlo rolex master e adesso se volete scoprire di più seguitemi entrando come potete vedere si percepisce subito l'esclusività di un resort molto chic ma allo stesso tempo anche molto rilassante siamo arrivati alla sala d'etuale dove si svolgerà il nostro international air show di monte carlo cosa ne pensi buon ami allora meravigliosa unica nel suo genere non sarà solo uno show un'esibizione sarà un viaggio verso il futuro di come cambierà il nostro lavoro e di come cambierà ovviamente anche la tecnologia che ci stanno dietro a tutti i prodotti io sono contentissimo di essere con mb italia per presentarvi il show in show speciale perché racconteremo la storia della moda tra gli anni 80 agli anni 2000 dopo l'emozionante show mv italia vi attende un'indimenticabile cena di gara alla stelle dei palmiers con un ristorante stellato all'interno del resort ci prepariamo un viaggio culinario unico perché lo chef seleziona personalmente le migliori materie prime provenienti dall'orto del monte carlo e dopo la cena di gara le emozioni continuano con sassun academy riconosciuta a livello mondiale ispira da oltre 60 anni generazioni di ai stalli provenienti da ogni parte del mondo il principato di monaco ha un fascino irresistibile tutto da scoprire magari su un'auto d'epoca abbiamo organizzato un tour della città che vi porterà alla scoperta delle meraviglie di monte carlo potrete esplorare l'iconico casino il palazzo dei principi il borgo medievale o se preferite rilassarvi nella lussuosa spa del monte carlo bay per prepararvi alla serata perché la sera sapete dove si va si va al tuiga monte carlo gli offriremo una cena mediterranea con il live show cabaret il nostro dj set vi faremo passare una serata indimenticabile